Un marocchino 52enne, residente nel territorio, è stato arrestato dai carabinieri di Monteporzio per ricettazione e vendita di prodotti falsificati. L'uomo era da tempo noto alle forze dell'ordine. Dal 2007 ad oggi, in innumerevoli operazioni di polizia, al marocchino sono stati sequestrati accessori e capi di abbigliamento con segni distrittivi contraffatti di vari marchi, tra cui Dolce e Gabbana, Nike, Prada, Gucci, Armani, Diesel e Lacoste. Il nordafricano, oltre a Monteporzio, svolgeva la sua attività in tutto il circondario, costa compresa. L'autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento restrittivo in carcere in quanto ritenuto l'unico mezzo idoneo a interrompere l'attività illegale. La vendita di prodotti contraffatti produce un incredibile arricchimento alle organizzazioni criminali che gestiscono la filiera del falso e arreca significativi danni economici ai tanti negozianti che commercializzano i prodotti legalmente pagando le relative tasse.